Ciao a tutti da GamingTube Italia, benvenuti nella videoguida definitiva di Final Fantasy VII Remake. Grazie a questa videoguida sarete in grado di ottenere e completare tutti i collezionabili e missioni secondarie relative al gioco, capitolo per capitolo. Tengo a precisare che tutto ciò che viene mostrato è fatto apposta seguendo l'ordine cronologico. Se cercate qualcosa in particolare vi rimando alla descrizione dato che sono elencati tutti i collezionabili, armi, dischi audio, incidenti di giorni, vestiti, ecc. Se cercate qualcosa in particolare vi rimando alla descrizione dato che sono elencati tutti i collezionabili in ordine e con una timeline ben precisa. Questo è stato fatto proprio per aiutarvi qualora aveste dimenticato qualcosa in particolare. Vi ricordo inoltre che al termine del gioco avrete la possibilità di selezionare i capitoli e che ogni cosa che avrete vi rimarrà sia nella modalità nuovo gioco più che nella modalità a difficoltà difficile. Vi ringrazio per la visione, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e mettere mi piace per questa videoguida. Grazie e alla prossima! Grazie! 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 Grazie!